Simone Mezzolani, operaio di 33 anni, è morto schiacciato da un macchinario industriale mentre ieri sera stava lavorando all'interno della FAB, sito produttivo di Gallo di Petriano dedicato ai componenti del mobile con mezzo secolo d'attività. Il tragico incidente sul lavoro è avvenuto a fine turno serale nel capannone 8 del mobilificio. Immediata l'allerta del personale che ha chiamato i soccorsi del 118, i quali però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane risultato morto sul colpo. Simone Mezzolani lavorava da diversi anni alla FAB, era originario di Vallefoglia, abitava da Psella di Montelabate ed era padre di due bambini di 8 e 2 anni. Sul posto sono in corso le indagini di Carabinieri e Ispettorato del Lavoro per chiarire quello che si annota come il terzo incidente mortale sul lavoro nelle Marche da inizio 2024. Tragedie che continuano ad essere inaccettabili per CGL, Cisle e Will con le sigle sindacali oggi presenti al sito produttivo petrianese. Tra l'altro, dall'11 al 14 giugno, Pesaro sarà anche la sede ospitante della terza edizione del Festival Nazionale per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.